combattevamo sempre con la... non avevamo pistone, se ci prendevano non avevamo nessuna arma di difesa il problema nostro era questo, perché se noi ci prendevano non avevamo una linea eravamo lì, insomma, ci prendevano proprio, facevano quello che volevano e infatti è successo così con Pelufo, quello che volevo dire e questo Pelufo era il mio contatto diretto iniziale lui e l'altro contatto era quello che ho detto Jim e Giacomo Frumento Pelufo, a bello momento, nei contatti così che abbiamo avuto, lui era un ragazzo molto in gamba aveva 16 anni ma non dimestrava l'età nel suo comportamento lui era sempre tranquillo, non esagerava di qua lui aveva già un'idea, diciamo, di comando senza farsi, non disturbava nessuno stava lì, diceva quello che bisognava fare quello che è fatto e quello che era da fare, che doveva far lui, eccetera era tutta una storia così tranquilla, beata e lui è caduto proprio da... è caduto malamente, insomma perché lui in un bel momento si è bruciato si è bruciato particolarmente... è stato tutto... si è bruciato tutto in una maniera strana dall'ufficio dove lavorava, che poi si è andato a lavorare perché lui si è messo a studiare e ha preso poi... perché subito era in Scarpa Magnano poi in un momento invece è andato in un ufficio, credo in via di Vegerio dalla finestra aveva chiamato un amico e aveva detto qualche cosa che qualcuno l'ha accattato che questo non... c'era qualcosa di diverso e allora in un bel momento l'hanno appostato a casa, no? lui va a casa, quando abbiamo capito la situazione diceva guardate, tu sei bruciato, anda, te ne vai in montagna e lui ha detto sì, prima di andare in montagna andrà a salutare mia mamma non l'avesse mai più fatta, è arrivato là, l'ha beccato, lo aspettavano e la stafetta è dovuta scappare perché sennò prendevano anche lei lei era nascosta, quindi ho preso lui poi è successo tutto quello, l'hanno trattato, ne hanno fatto tutti i colori quelli che dicevano che quando usciva lì, lì al palazzo che è del governo al piano terra, quel locale grosso che c'è che infatti era quella sale di cui il federale una volta ci aveva radunati lì che era un salone, lì quando ritornava dicevano veniva, era un disastro, infatti io non ce l'ho ma c'è qualche fotografia in giro, ce l'ho ma non chissà dove è andata si vede che tutto, gli occhiali, ne hanno fatto tutti i colori e il nostro problema è quando ha capito lui noi non ci abbiamo visto nessuna, abbiamo cessato tutto io sono stato nascosto per parecchio tempo nella galleria, andavamo a dormire nella galleria della nuova ferrovia sotto Madonna degli Angeli, c'è quella galleria che si entra alla stazione lì era, lì era solo fatano, la ferrovia lì è venuta fuori il lottemporo dopo, lì c'era solo l'impianto e allora era lunga, c'era la possibilità di scappare abbastanza bene comunque nessuno ci vedeva, entravamo di sera e va bene qualche volta ho dormito anche qua perché qua c'era mia, poi mia moglie è diventata grazie a tutti